Si stanno completando ad oltresenda alta i lavori per la realizzazione di una nuova centralina idroelettrica. Cominciamo a dire come è stata costruita questa operazione. L'operazione è stata costruita come capofila comune di Piario. Abbiamo avuto un finanziamento e abbiamo praticamente utilizzato l'acquedotto che viene da Spinelli e sfruttando appunto il salto praticamente da oltresenda a questa centralina che abbiamo costruito in questi anni perché ormai è tre anni che imbaro la questione. Finalmente siamo arrivati alla conclusione. È stata posata la turbina e proprio stamani stanno lavorando con l'Uniacque per realizzare il collegamento tra la turbina e l'alternatore e poi mandare di nuovo l'acqua nell'acquedotto quindi non si perde niente, non si consuma niente, non si rovina niente, non si inquina niente. Quindi direi è una buona cosa. La potenza non è elevata chiaramente però qualcosina potremmo ricavarci. È chiaro che se le cose potevano funzionare un po' prima forse avevamo dei risultati migliori. Comunque è importante che nel giro Selenel farà i collegamenti in ritmi normali diciamo nei 30-50 giorni entro fine novembre la centralina dovrebbe funzionare. L'ultima parte dei lavori è eseguita proprio in questi giorni. In che cosa riguarda? Esattamente, riguarda praticamente il collegamento tra il palo dell'Enel che ci hanno detto di tenere in considerazione. Abbiamo fatto l'attraversamento del provinciale, siamo scesi lungo una scarpata piuttosto ripida che poi si può vedere e abbiamo attraversato il torrente, siamo entrati e abbiamo praticamente il collegamento con la centralina sperando che nel giro di poco si possa poi effettivamente dalla centrale mandare l'energia all'Enel. Questo dipende esclusivamente da loro. Dobbiamo completare la parte burocratica, poi l'Enel in 40-50 giorni dovrebbe essere in grado di consegnarci tutto quello che serve per poter produrre questa poca energia e poi mandarla in rete e avere un utile anche se sarà piccolo e in sostanza sarà una quota a piario molto più alta perché ha partecipato in modo consistente. Noi come Oltresenda abbiamo una quota più alta.